Musica Salve tutti strambodi e benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre su questione e bentornati in un nuovo What's It In A Day Di video dove vi dico tutto quello che ho mangiato durante una giornata In questo caso nella giornata di ieri rispetto a quando sto registrando questo video Uno dei video che a me piace tantissimo fare C'è tantissimo anche guardarli Adoro guardare What's It In A Day delle persone Prima di iniziare però vi ricordo di seguirmi su Instagram Prima di sempre aggiornati E che se volete supportare il mio canale potete farlo intanto iscrivendovi E poi guardando il link di Coffee Fiverr e Vinted in descrizione Ho sempre la solita premessa sul fatto che ovviamente questa è una giornata un po' casuale Ci sono giorni in cui mangio di più e giorni in cui mangio di meno Ovviamente il mio intanto non è quello di influenzarvi sul come dovete mangiare Ma soltanto quello di condividere la mia quotidianità Perché siamo tutti diversi e anche tutti mangiamo cose diverse ogni giorno A seconda delle nostre abitudini e nostri gusti anche E altra cosa io vi metto sempre lo specchietto con le calorie Perché almeno a me fa molto molto comodo segnarmele Ovviamente a vostra discrezione perché segnare le calorie ad alcuni fa comodo come me Ma per altri diventa una fissazione, un'ossessione Cosa comunque che non è nel mio caso Quindi ho ciò Tutto questo direi che possiamo appunto partire con la colazione Dove ovviamente come costante abbiamo il caffè e il latte E questa volta anziché i biscottini Ho mangiato delle fette biscottate con la marmellata di ciliegie La linea di massima sono fra quelle sostenitrici che le fette biscottate facciano davvero schifo al cazzo E non c'è davvero un motivo per cui le persone dovrebbero consigliarti di mangiare le fette biscottate E l'unico modo in cui le tollero è con la marmellata Come avevo questa marmellata che avevo fatto un paio di giorni prima con delle ciliegie che non erano proprio bellissime Avevo comprato queste ciliegie e una parte non erano bellissime E quindi ho detto anziché buttarle ci faccio una marmellata Comunque non è una marmellata fatta per essere conservata a lungo quindi devo consumarla Prendo altro su cui metterla l'ho messa sulle fette biscottate quindi gg Comunque è venuta una marmellata molto buona Con le fette biscottate le ha rese sicuramente mangiabili E in accoppiata con il caffellatte mi ha reso la mattinata felice Mi sapete voi che cosa ne pensate delle fette biscottate Perché io davvero le trovo fra quegli alimenti che non piacciono davvero a nessuno secondo me Un po' come le gallette di riso Non c'è davvero motivo per mangiare le gallette di riso Le fette biscottate al posto di una bella fetta di normalissimo pane Passando invece al pranzo mi sono mangiata questi involtini primavera Che erano in offerta a Lidl Perché non lo so tipo in scadenza e quindi li ho presi Molto buoni li ho riscaldati barra cotti al forno Che li ha resi belli crispy per li tipo rifriggere ecco E l'unica cosa che il ripieno non ho capito bene Che mentre tipo gli involtini primavera che uno mangia normalmente tipo al cinese o al sushi Praticamente hanno dentro tipo carote e cavolo Qui c'erano sì carote e cavolo ma c'era anche un qualcosa di cremoso Oserei dire come se avessero messo anche delle patate Perché era quel... Cioè non era brutto come gusto Anzi era molto buono Però c'era questo pastoso che non mi so spiegare Ok buoni E dopo mi sono bevuta un bel bicchiere di tè freddo Perché d'estate il tè freddo mi serve proprio per sopravvivere Me lo metterei tipo endovena E direte un pranzo un po' povero In realtà neanche tanto considerando quello che ho mangiato a cena Ma in realtà mi sono fatta un post pranzo Perché mia mamma tornava tardi dal lavoro E quindi le ho fatto trovare che mi aveva chiesto di scongelarle delle fette di pizza Che avevamo surgelate Sono scongelata apposta E no io l'ho robata a lei Mi sono scongelata questi due pezzettini di pizza Qui potete vedere come lo sto assaggiando Però sono confusa perché era un pezzo di pizza col gorgonzola E a me il gorgonzola non piace Quindi ho sentito un sentore di gorgonzola Pensavo di non aver preso il pezzettino col gorgonzola Però comunque soddisfatta di ciò Pizza in teglia mi piace però in realtà più che margherita Di un altro gusto che si usa qua a Palermo Che è quella sfincione molto buona Comunque passando invece alla sera Con cura ci siamo fatti e preparati Degli spaghettini di riso con le verdure saltati Le facciamo tagliando ovviamente un sacco di verdure Ci mettiamo il cavolo o la verza Travote zucchine Cipolla Prima però facciamo fare l'uovo tipo strapazzato Poi aggiungiamo tutte queste verdure In questo caso avevamo il cavolo viola Quindi tipo l'uovo è diventato blu a un certo punto È stato molto divertente Poi mettiamo gli spaghetti che abbiamo fatto cuocere Come degli spaghetti normali diciamo E facciamo saltare tutto con curry, paprika, zenzero Insomma un sacco di spezie e salsa di soia Devo dire che è venuto buono Però altre volte è venuto meglio Forse per il cavolo viola è stato un po' così Ha dato un gusto un po' particolare Perché appunto una cosa che abbiamo constatato È che le altre volte aveva un tipo di sapore diverso Forse ci era piaciuto di più Mentre questa volta è un po' così E poi per concludere la cena Siccome avevamo comprato una big anguria Abbiamo mangiato un sacco di anguria Io adoro l'anguria E fan fact mi piace tanto La parte a ridosso della parte bianca Tutti si litigano per il centro Certo a me pure piace il centro Però mi piace anche la parte che sta più di niente La che è vicino alla parte bianca Curia d'estate Buona, buonissima, rinfrescante E niente questo è quello che ho mangiato ieri Fatemi sapere voi nei commenti Che cosa avete mangiato ieri O cosa avete mangiato oggi Dipende quando state guardando questo video E niente se il video vi è piaciuto Mettete mi piace, commentate, condividete E iscrivetevi al canale Ciao a tutti